Si fa fatica a commentare questa partita, nel senso che il Pisa l'ha fatta, avrebbe meritato almeno il pareggio, invece torna a casa con un'altra sconfitta. Come ho detto prima, la prestazione non è stata negativa secondo me, però dobbiamo assolutamente fare di più perché abbiamo perso ed è un dato di fatto. Quindi dobbiamo analizzare quello che abbiamo fatto bene e soprattutto quello che non abbiamo fatto bene e ripartire già da domani. Cos'è mancato secondo te oggi, a parte le occasioni che poi alcune sono veramente sfumate per un niente? Ma è mancato quello, la cattiveria di cercare di chiudere l'azione perché secondo me abbiamo avuto il possesso palla e il dominio della partita per larghi tratti. Quindi sicuramente è mancato quello. Sui gol loro, il primo dovevamo far meglio, il secondo è un contropiede, ci metto anche un pizzico di sfortuna, però non è un caso assolutamente. Quindi dobbiamo rimetterci al lavoro subito.